Cambiano raggruppamento Prato-Leppa-Centro dopo la scorsa stagione disputata nel girone B, comprendente squadre delle province di Pescara e Chieti. I due club peligni sono stati inseriti nel girone A insieme a squadre marsicane e terramane. Si passa così da un girone tecnico come quello B ad un altro sicuramente di una levatura diversa, dove le squadre dovrebbero essere più rognose, a cominciare dall'ambiziosa Vezzano, ancora con l'amarezza della sconfitta e play-off contro la Torrese, e dalle retrocesse Martinsicuro e Mosciano, vogliose di tornare al più presto in eccellenza. L'approccio nel nuovo raggruppamento rappresenta la principale difficoltà di Prato-Leppa-Centro. A nulla è servito conoscere il valore del campionato, che all'improvviso si passa da una parte all'altra, con la FICC che dovrebbe porre più attenzione, su questo aspetto, tenendo conto che questi stravolgimenti non giovano certo alle squadre che, nello stesso campionato, sono costrette ad affrontare avversari diversi. Questo il girone A al completo, che si avvale delle ripescate, Cologna, Pontevomano e Valle del Gran Sasso. Ecco le 18 formazioni, Avezzano, Balsorano, Castello 2000, Cologna, Atria, Gia Guarangizia, Luco, Martinsicuro, Mosciano, Mutignano, Notaresco, Pacentro, Paterno, Pontevomano, Pratola, Real Carzoli, Santomero Palmenze, Tossicia e Valle del Gran Sasso. Il lavoro dovrà essere ispirato alle caratteristiche tecniche del girone A. Il Pratola lo farà con il nuovo tecnico Roberto Di Sante, che potrà valersi di sette nuovi innesti. Il portiere Oddi è l'attaccante da Andrea Del Raiano, il centrocampista Savesse Dal Goriano, dal Pacentro i centrocampisti Cucrullo e Liberatore, il difensore Campanella dal Castel di Sangro e il difensore di Bacco dalla Valle Peligna. Il Pratola, che non ha ancora scelto il nuovo tecnico, dovrebbe essere comunque Mario Pulsone, si è rinforzato con il centrocampista Vitone Dal Pratola, i difensori Safonne con la Prete Dal Raiano e i giovani Pizzo Ferrato Dal Pratola e la Gatta dalla Cedas Fiat. La stagione ufficiale incomincerà domenica 26 agosto con la Coppa Italia, mentre il campionato prenderà il via il 9 settembre.